La situazione la potete vedere, io sinceramente in queste condizioni qua non vorrei essere aperto perché non è giusto la gente che viene a Silvi. Mix di rabbia e disperazione quella dei balneatori della zona sud di Silvi Marina, che dopo decenni di sacrifici la prossima stagione estiva, in queste condizioni non se la sentono di aprire gli ombrelloni. Se così fosse, alla fine dei conti sarebbe una sconfitta per tutta la città, visto che negli anni la zona del villaggio del Fanciullo in estate ha perso circa mille persone. E' una cosa, io sinceramente da Silvarolo mi vergogno perché un turista che viene qua e sta in queste condizioni cosa può raccontare quando va a casa? Che si è trovato male. Situazione che va avanti da lontano 2007, quando la regione Abruzzo si aggiudicò un bando di 4 milioni di euro per il posizionamento delle scogliere, lavori bloccati poi dalla finanza. Il nuovo bando ha visto l'iniziale posizionamento dei cosiddetti pennelli, ma non finire i lavori, mettendo anche scogliere orizzontali, ha portato all'erosione di addurittura 15 metri di spiaggia. Noi sono anni che aspettiamo le scogliere, finalmente le abbiamo viste cominciare, purtroppo non avendole finite hanno creato più danno di quello che avevamo prima. Se prima perdevamo un metro, due metri ogni anno, nel giro dell'estate abbiamo perso 15-20 metri. Il risultato lo state vedendo. In questo modo è evidente che la stagione per questi balneatori rischia di saltare. Ora l'appello, l'ennesimo è alla ditta e istituzioni affinché si acceleri per terminare i lavori entro aprile, termine del cronoprogramma. Altrimenti il rifacimento a questo punto sembra essere l'unica soluzione, ma non come quella avvenuta lo scorso anno, sottolinea ancora Di Francesco. La regione o il comune che facessero un rifacimento con le draghe però, quindi buttano qui la sabbia che è compatibile, quella lì forse l'estate ce la fa fare, ma si devono sbrigare, ecco perché noi lamentiamo una mancanza di comunicazione.